bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie oggi amici parliamo di un caso che mi avete consigliato voi tramite un messaggio su instagram ed è un caso di cui onestamente io non avevo mai sentito parlare e la cosa è strana perché teoricamente dovrebbe trattarsi di un caso piuttosto noto essendo in qualche modo coinvolto il famosissimo attore Ashton Kutcher non ho mai capito come si pronunci credo Kutcher Comunque amici quando me ne avete parlato io sono caduta dalle nuvole e ho dovuto assolutamente iniziare a informarmi perché si tratta di una storia davvero assurda e quindi oggi eccoci qua per parlare di una ragazza di una ragazza molto bella di nome Ashley Ellerin in realtà parleremo anche di altre tre ragazze e di un serial killer ribattezzato dai media come The Hollywood Ripper ovvero lo squadratore di Hollywood il suo nome è Michael Gargiulo prima di cominciare però amici pensavate di averla scampata invece no prima di cominciare voglio ringraziare lo sponsor di oggi penso sia stato lo sponsor che avete apprezzato più di tutti e di questo sono estremamente felice perché lo sponsor di oggi è uno bravo se mi seguite qui ma soprattutto su Instagram dove vi parlo un po' di più di me della mia vita sapete quanto io ci tenga a parlare di benessere psicologico ma soprattutto quanto sia importante per me l'andare in terapia io personalmente ci vado da tanti anni e ricevo spessissimo domande da parte vostra in cui mi chiedete informazioni su questo e condividete con me le vostre paure come si fa a trovare lo psicologo giusto e se mi accorgo che lo psicologo che ho scelto non va bene per me e se non posso permettermelo ora che siamo a settembre mi sembra il momento perfetto in cui un po' tutti siamo propensi a rimetterci in gioco e quindi perché non provare a cogliere l'occasione per aumentare la propria consapevolezza e per provare a mettere a posto quegli stati d'animo che ci creano disagi piccoli o grandi che siano grazie ai più di 4000 terapeuti che collaborano al servizio di psicologia online uno bravo avrete modo di trovare lo psicologo più adatto alle vostre esigenze reali infatti uno bravo mette anche a disposizione un questionario mirato da compilare prima di iniziare proprio per capire le vostre esigenze così da trovare il terapeuta più adatto a voi tra i loro professionisti e inoltre amici il primo incontro conoscitivo è completamente gratuito andare in terapia secondo la mia esperienza è qualcosa di bellissimo a me ormai lo sapete perché ne parlo sempre ha letteralmente cambiato la vita e una cosa che so oggi è che se potessi direi all'elisa del passato è che non bisogna aspettare l'ultimo momento per rivolgersi ad un professionista non bisogna aspettare di esplodere o di stare così male da non vedere altra via d'uscita andare in terapia può essere utile ad ognuno di noi ed è uno strumento bellissimo che vi auguro di imparare ad usare e di imparare a sfruttare al meglio anche semplicemente per conoscervi di più vi lascio il link per la compilazione del questionario sotto nella descrizione del video e non dimenticate che con il mio codice promo elisa 10 avrete il 10 per cento di sconto sulla prima seduta a pagamento amici prendetevi sempre cura di voi e prego non c'è di che e ora amici partiamo con la storia di oggi partiamo da ashley chi è ashley ellerin ashley nasce il 16 luglio del 1978 a los altos in california crescendo frequenta il liceo di los altos e pratica diversi sport è una ragazza molto attiva fa parte della squadra di polo e anche della squadra di nuoto della scuola inoltre suona anche il pianoforte ed è un artista di talento nel 2000 ashley si trasferisce a los angeles e va a vivere proprio a hollywood in un appartamento insieme ad un'altra ragazza una coinquilina e qui inizia a studiare moda all'istituto di moda e design di appunto los angeles perché il suo sogno era quello di lavorare proprio in quel settore nel settore della moda ashley è una ragazza incredibilmente di talento questo lo dicono tutti quelli che la conoscono fin da bambina qualsiasi cosa facesse le riusciva bene e oltre questo è anche una persona meravigliosa a detta di tutti ashley è simpatica sempre piena di vita e sempre estremamente gentile gentile anche con chi decisamente non se lo merita come vedremo ashley è una ragazza molto popolare con un bel giro di amici va spesso alle feste va nei locali si diverte e un giorno nel 2001 attraverso un suo amico fa una conoscenza importante questo suo amico le presenta niente meno che il famosissimo attore ashton kutcher ashton kutcher in quel periodo era un attore in ascesa era all'inizio della sua carriera ma era già molto famoso grazie alla serie tv that's 70s show inoltre è un buono pazzesco quindi ashley è ben felice di fare la sua conoscenza anche ashley è obiettivamente una ragazza bellissima infatti i due si piacciono all'istante e dopo aver passato la serata a chiacchierare si mettono d'accordo per uscire insieme e da lì i due hanno una relazione la loro relazione però pare non sia una relazione esclusiva pare che entrambi vedessero altre persone era una cosa molto casual insomma sono entrambi giovani hanno 23 anni e entrambi non volevano legarsi ad una persona sola comunque un bel giorno ashton invita ashley a uscire insieme a lui la invita ad una festa ma non una festa qualsiasi la invita all'after party niente meno che dei grammy awards una serata pazzesca cioè ashley quella sera sarebbe andata all'after party dei grammy awards con ashton kutcher cioè una cosa che neanche nei film succede ok quindi quella sera la sera del 21 febbraio 2001 ashley è emozionatissima immaginatevi la situazione cioè mettetevi nei suoi panni e immaginate l'emozione in previsione della serata che l'aspettava il piano era che ashton andasse a prenderla a casa alle 20 insieme poi sarebbero andati a cena e poi dopo cena sarebbero andati all'after party dei grammy awards il piano però cambia perché ashton alla fine decide di rimanere a casa di un suo amico a guardare in tv i grammy quindi decide di saltare la cena con ashley e di andare con lei direttamente alla festa dei grammy quindi decide di non andarla a prendere alle 20 come avevano concordato ma di andare più tardi verso le 10 ashton quindi verso le 19 30 le telefona per informarla di questo suo cambio di programma ma al telefono ashley non risponde ashton le lascia quindi un messaggio in segreteria e successivamente ashley lo richiama dal telefono della sua coinquilina e gli dice che il telefono di casa non funzionava e che lei era appena uscita dalla doccia e si era lavata i capelli insomma doveva ancora iniziare a prepararsi quindi la notizia che ashton fosse in ritardo per lei è una cosa positiva perché comunque non sarebbe mai stata pronta in tempo per le 8 intorno alle 22 ashton esce da casa del suo amico si mette alla guida e inizia a dirigersi verso casa di ashley per andarla a prendere e lungo il tragitto le telefona per avvisarla ma lei di nuovo non risponde ashton quindi temporeggia perché racconta di non voler arrivare lì senza prima avvisare cioè senza essere prima sicuro che lei fosse pronta anche se a parer mio questa cosa non ha molto senso cioè l'aveva già avvisata mille volte ma vabbè questo è quello che lui racconta comunque lui prova a chiamarla altre volte ma non riceve mai una risposta quindi ad un certo punto va lo stesso arriva fuori casa di ashley alle 22 45 e bussa alla sua porta ma nessuno gli apre bussa di nuovo suona il campanello prova a richiamarla ma nulla nessuna risposta ashton a questo punto è confuso non capisce se ashley non sia in casa o se semplicemente non lo senta quindi prova ad aprire la porta d'ingresso ma la porta era chiusa a quel punto quindi si sporge e guarda dentro casa attraverso la finestra ashton racconta che tutte le luci della casa erano accese e che c'era un gran disordine all'interno e inoltre sul pavimento c'erano delle grosse chiazze di vino rosso ad ashton però quella situazione non è sembrata strana in realtà conosceva ashley e sapeva che spesso lei o la sua coinquilina organizzavano delle feste in casa lui stesso solo la settimana prima era andato proprio lì ad una festa e non era strano che si versasse del vino per terra o che la casa rimanesse in subbuglio dopo queste feste quindi non lì per lì non pensa nulla di preoccupante anzi in realtà come racconta lui stesso pensa che ashley se ne sia andata cioè che se ne sia uscita per i cavoli suoi quella sera senza aspettarlo ashton kutcher pensa che ashley gli abbia tirato il pacco insomma forse perché arrabbiata del fatto che lui fosse così in ritardo no perché prima le aveva detto vengo alle 8 poi vengo alle 10 poi era arrivato alle 10 e 45 sarebbe stato solo comprensibile che lei si fosse rotta di aspettarlo e si fosse fatta agli affari suoi quindi ashton rinuncia si gira e se ne va va all'after party dei grammy awards da solo la mattina dopo intorno alle 9 la coinquilina di ashley una ragazza di nome jennifer di sisto torna a casa dopo aver passato la notte fuori ma quando apre la porta d'ingresso quello che si trova davanti amici la traumatizzerà per tutta la vita jennifer vede una scena che non potrà mai più dimenticare perché subito fuori dalla porta del bagno sul pavimento c'era il corpo senza vita della sua amica ashley ashley era ricoperta di sangue c'era sangue ovunque amici perché come emergerà poi dall'autopsia ashley era stata colpita da ben 47 coltellate 47 amici infatti le macchie che ashton kutcher diceva di aver visto attraverso la finestra quelle che gli sembravano macchie di vino rosso in realtà erano macchie di sangue ma la parte forse peggiore è che il responsabile dopo aver ucciso ashley aveva posizionato il corpo in un certo modo cioè aveva messo il corpo in posa e questo è stato fatto dal killer di proposito proprio per sconvolgere chiunque l'avesse trovata per impressionare praticamente il responsabile il mostro che aveva fatto tutto ciò aveva tagliato in una mano di ashley tutte le dita tranne il pollice e l'indice e poi l'aveva aveva posizionato la mano come se stesse indicando il suo pube e la cosa strana tra virgolette è che su ashley non è stata fatta violenza e dico che è una cosa strana perché la posa in cui il corpo è stato messo ha un chiaro richiamo sessuale ashley era completamente nuda anche perché era da poco uscita dalla doccia e il dito che indica il pube è qualcosa di sessuale nella psiche del killer è come se fosse un modo per lui di dire guardate io avevo il potere di fare a questa ragazza tutto quello che volevo ci troviamo quindi di fronte ad una persona deviata una persona con grossi disturbi è una persona che presumibilmente ha già ucciso altre volte perché questa presunzione questa sfacciataggine di giocare col corpo di metterlo in posa come se fosse una bambola per creare un effetto sulle persone che la vedranno fa pensare che appunto lo abbia già fatto fa pensare che il killer sappia molto bene cosa gli dà piacere o che cosa gli dà soddisfazione come vi accennavo prima sul corpo vengono trovate 47 ferite d'arma da taglio era stata colpita ovunque amici sul petto nell'addome allo stomaco in testa il killer l'aveva pugnalata sulla testa così forte che un pezzo di cranio si era staccato e infine le aveva tagliato la gola così in profondità da averla quasi decapitata e in tutto ciò ashley aveva lottato aveva lottato tantissimo erano state trovate davvero tante ferite da difesa e chiaramente la persona responsabile di quel delitto era sicuramente molto forte quindi presumibilmente un uomo i detective come prima cosa parlano con gli amici di ashley e gli chiedono se per caso la ragazza avesse qualcuno che la odiasse o qualche stalker e a quel punto tutti i suoi amici rispondono la stessa cosa rispondono che ashley aveva e come uno stalker il suo nome era mike ed era un tipo talmente inquietante che ashley con i suoi amici gli avevano dato un soprannome quando parlavano tra loro lo chiamavano furnace mike furnace sarebbe la fornace quella in cui si cremano i corpi per intenderci quindi lo chiamavano mike fornace cioè questo soprannome era un po perché questo mike riparava cose e tra le cose che aveva riparato c'era appunto una fornace e un po perché questo mike faceva venire i brividi era un tipo inquietante quindi furnace mike era diventato il perfetto soprannome per lui un amico di ashley in particolare racconta alle autorità tutta la vicenda cioè come ashley e questo mike si erano conosciuti praticamente mike fornace il cui vero nome è mike viveva vicino casa di ashley e un giorno aveva incontrato ashley mentre era in difficoltà cioè lei era in difficoltà perché aveva bucato una ruota della sua auto quindi mike si era offerto di aiutarla ashley era insieme ad una sua amica e questa sua amica racconta poi alle autorità di aver subito avvertito una sensazione strana rispetto a questo mike sapete quel sesto senso che non si può spiegare che io vi dico di ascoltare sempre ecco a lei quell'uomo dava i brividi quindi lei non gli aveva voluto dare confidenza mentre invece ashley questo sesto senso questa brutta sensazione non l'aveva avuta ashley era stata molto gentile con lui e gli aveva dato non solo confidenza ma gli aveva addirittura dato il suo numero di telefono quando lui gliel'aveva gli aveva chiesto perché lui aveva iniziato subito a flirtare con lei e lei non aveva pensato nulla di male alla fine era un suo vicino di casa ma michael gargiulo si era presto ossessionato con la giovane bella ashley e aveva iniziato a seguirla ovunque a presentarsi all'improvviso a casa sua senza essere invitato con la scusa di dover riparare delle cose perché come vi ho detto michael gargiulo riparava cose riparava principalmente condizionatori ma vabbè era un po' un tutto fare michael gargiulo aveva anche iniziato a presentarsi alle feste che dava ashley sempre senza essere invitato quindi il tutto era diventato piuttosto inquietante ma in realtà questo tizio non aveva mai fatto del male ad ashley quindi lei non aveva mai avuto paura di lui le sembrava un tizio molto strano palesemente fissato con lei ma nulla di preoccupante tant'è che come vi ho detto prima lei e i suoi amici ridevano di questa cosa gli davano soprannomi quando ne parlavano quindi chiaramente avevano tutti sottovalutato la cosa ma poi quando ashley era stata trovata morta in quel modo improvvisamente era stato chiaro a tutti chi fosse responsabile era sicuramente stato michael gargiulo e avevano ragione le autorità indagano su di lui ma non scoprono molto se non il fatto che fosse un bugiardo patologico pare infatti che michael andasse in giro a dire tra le cose di star aspettando un risarcimento multimilionario per un incidente stradale in cui era stato coinvolto quindi diceva di essere stato investito molto tempo prima e come risarcimento gli sarebbero arrivati presto dei milioni di dollari ma quando le autorità verificano questa informazione scoprono che non era vero o meglio qualcosa c'era a quanto pare tempo prima gargiulo aveva fatto rapporto alle autorità perché una macchina aveva quasi investito il suo cane cioè non lui il suo cane e lo aveva quasi investito quindi vabbè non credo che avrebbe ricevuto un risarcimento multimilionario per questo ma lui diceva così comunque le indagini procedono ma procedono a rilento anche perché guarda un po michael gargiulo non si trovava da nessuna parte si era dileguato nel nulla dopo la morte di ashley e dopo qualche mese la polizia di los angeles viene contattata dalla polizia di chicago e questo perché la polizia di chicago stava investigando su un caso di omicidio avvenuto ben quasi dieci anni prima la vittima di questo delitto avvenuto il 13 agosto del 1993 si chiamava trisha pacaccio trisha aveva 18 anni e andava al liceo anzi aveva finito il liceo e era pronta per andare all'università aveva anche ricevuto una borsa di studio per andare all'università quindi era un momento molto bello della sua vita ma purtroppo la sua vita era stata brutalmente portata via appunto il 13 agosto del 93 era stato suo padre a trovarla per primo senza vita in casa l'aveva trovata praticamente sull'uscio della porta sul retro per terra pienissima di sangue e anche trisha come ashley era stata uccisa con un'arma da taglio ed era stata colpita 12 volte al cuore ai polmoni nell'addome ad un braccio al collo e alla schiena quando suo padre e subito dopo sua madre l'avevano trovata senza vita erano impazziti suo padre non riusciva a smettere di urlare e sua madre aveva perso i sensi e avevano dovuto ricoverarli all'ospedale in stato di shock ma c'è un dettaglio molto inquietante ovvero che anche il corpo di trisha come quello di ashley era stato messo in posa dopo la sua morte e questo è il motivo per cui la polizia di chicago stava chiamando la polizia di los angeles perché con l'avanzamento della tecnologia erano finalmente riusciti a testare il dna trovato sotto le unghie di trisha pacaccio e quel dna apparteneva a michael gargiulo lo stesso michael gargiulo che era sospettato o comunque era una persona di interesse nell'uccisione di ashley hellerin michael gargiulo infatti nel 1993 era proprio il vicino di casa di trisha pacaccio ed era anche amico di suo fratello quindi era spesso a casa della famiglia di trisha e probabilmente come era successo con ashley si era invaguito di trisha probabilmente si era ossessionato con questa ragazza e infine l'aveva uccisa gargiulo però dopo la morte di ashley come vi dicevo prima aveva preso le sue cose ed era scappato via esattamente come aveva fatto dopo la morte di trisha al tempo infatti aveva lasciato questo paesino vicino chicago in cui viveva e si era appunto trasferito a los angeles e questo sembra un po il suo schema cioè gargiulo si ossessionava con una bella ragazza che abitava vicino a lui la uccideva e poi si trasferiva da un'altra parte eppure amici nonostante tutto questo le autorità non arrestano michael gargiulo per l'uccisione di trisha nonostante le similitudini con l'uccisione di ashley e nonostante ci fosse il suo dna sotto le unghie della vittima e questo perché a detta delle autorità quella non era una prova sufficiente per dimostrare che l'avesse uccisa lui perché comunque gargiulo era amico del fratello di trisha come vi ho detto prima quindi passava molto spesso del tempo in quella casa quindi secondo le autorità non era poi così strano che ci fosse del suo dna sulla vittima e vi dico anche un'altra cosa le autorità non informano mai la famiglia di trisha di questa scoperta cioè non riferiscono mai ai pacaccio di aver trovato il dna di gargiulo sotto le unghie della loro figlia perlomeno però hanno avvertito le autorità di los angeles che è già qualcosa diciamo le autorità di los angeles infatti indagano su gargiulo come vi ho detto prima e oltre ad aver scoperto che mentisse molto spesso scoprono anche che gargiulo avesse un po una brutta reputazione nel quartiere in cui era cresciuto la reputazione di un bullo di un ragazzo violento con un brutto carattere che si arrabbiava molto molto facilmente e oltre questo in realtà su di lui non si sa molto ad un certo punto però la polizia di los angeles ottiene un mandato di perquisizione per perquisire l'appartamento di gargiulo l'appartamento in cui viveva a los angeles appartamento che aveva lasciato in fretta e furia prima di darsi alla fuga dove era andato non si sa perché le autorità non riuscivano a trovarlo gargiulo stava molto attento a non farsi trovare dormiva in un furgone pagava sempre in contanti insomma palesemente non voleva farsi trovare comunque i detective perquisiscono il suo appartamento e all'interno trovano alcune cose bizzarre inquietanti allo stesso tempo come per esempio più di 100 figurine horror non so esattamente cosa significhi c'è scritto solo questo negli articoli più di 100 figurine horror che da sole chiaramente non significano niente no perché la gente colleziona figurine figurine horror qualcosa che potrei benissimo collezionare io ma se pensiamo che stavano a casa di uno che si sospetta abbia ucciso brutalmente due donne la cosa diventa subito un po più inquietante oppure trovano sempre nel suo trattamento moltissimi coltelli e una maschera di plastica trasparente di quelle che distorcono i lineamenti di chi le indossa una cosa degna di un film dell'orrore perché viene da chiedersi se gargiulo indossasse questa maschera quando uccideva le persone immaginate di essere ashley e di uscire dalla doccia e di trovarvi davanti un uomo in casa vostra con indosso questa maschera non so se esista qualcosa di più spaventoso onestamente comunque le autorità continuano la perquisizione ma ad un certo punto succede qualcosa che ha dell'incredibile ovvero durante la perquisizione gargiulo si presenta entra in casa e trova la polizia all'inizio finge di essere tranquillo di non aver nulla da nascondere ma quando i detective gli chiedono di fare un test del dna lui scappa corre via ma fortunatamente quattro detective prontamente lo inseguono e riescono a prenderlo ma a questo punto nonostante tutto amici lo so che è frustrante le autorità non possono arrestarlo cioè gli possono fare il test del dna cosa che fanno hanno infatti la conferma che il suo dna sia lo stesso trovato sotto le unghie di triscia pacaccio ma come già detto non era una prova sufficiente per arrestarlo e in casa sua non trovano nulla di incriminante o che lo collegasse all'omicidio di ashley quindi sono costretti a lasciarlo andare lo so che sembra assurdo non ha nessun senso eppure è così infatti passano degli anni amici e nel 2005 gargiulo vive tranquillo e sereno a el monte un quartiere di los angeles e ci vive insieme ad una donna con cui ha una relazione e con cui ha anche fatto un figlio nello stesso complesso in cui vive gargiulo con la sua fidanzata ci vive anche una donna una bellissima donna di nome maria bruno di 32 anni madre di quattro figli quando gargiulo vede per la prima volta questa donna maria rimane folgorato dalla sua bellezza e se ci pensate tutte le vittime di gargiulo erano particolarmente belle maria si era trasferita in quel complesso solo dieci giorni prima si era appena separata dal marito che da quello che ho letto insomma la loro sembrava una relazione piuttosto tossica quindi maria stava ricominciando una nuova vita con i suoi figli in quella casa ma il 2 dicembre del 2005 la mattina il suo ex marito va a casa sua a casa di maria per portarla a lavoro perché lei non era ancora del tutto indipendente e lui si era offerto di aiutarla perché comunque avevano quattro figli insieme quindi chiaramente avevano ancora un legame e quando l'ex marito sale a casa di maria ed entra in casa la trova nel suo letto senza vita in un lago di sangue era stata uccisa nel sonno anche lei pugnalata ben 17 volte anche a maria era stata tagliata la gola molto in profondità proprio come ad ashley e anche il suo corpo era stato messo in posa e amici è difficile anche per me raccontarvelo perché quello che gargiulo ha fatto a maria è semplicemente orribile grottesco non so come altro esprimermi praticamente gargiulo ha appunto ucciso la povera maria con 17 coltellate e successivamente ha rimosso i suoi seni e ne ha piazzato uno sulla sua bocca sulla bocca di maria stessa questa cosa mi ha impressionata per ovvi motivi ma anche perché mi ha ricordato in maniera inquietante danilo restivo che ha fatto qualcosa di molto simile ad una donna in inghilterra lui aveva piazzato i seni dietro la sua testa viene davvero da chiedersi che cosa passi nella testa di queste persone così tanto deviate per fare una cosa del genere cioè perché questo caso il caso di maria bruno non viene subito collegato a gargiulo non chiedetemi perché chiaramente non era lo stesso dipartimento di polizia ad occuparsene infatti il caso rimane aperto il killer di maria non viene trovato per molto tempo anche perché non vengono trovate tracce non vengono trovate impronte nulla anzi l'unica cosa che viene trovata è un copri scarpe sapete quei cosi che si mettono sulle scarpe tipo chirurgici per non sporcare ecco viene trovato uno di questi cosi che indica chiaramente come dicevo prima che il killer non sia uno sprovveduto e che sappia esattamente cosa sta facendo parliamo di un serial killer a questo punto passano degli altri anni gargiulo si trasferisce di nuovo seguendo sempre lo stesso schema quindi lui appunto si trasferisce ad occhia una donna la uccide si trasferisce di nuovo e così via questo si trasferisce più di me possiamo dirlo stavolta si trasferisce a santa monica sempre in california e questa volta si trasferisce da solo da quello che ho letto ha avuto dei problemi con la donna con cui stava con cui ha avuto un figlio quindi la lascia abbandonando presumibilmente anche il figlio e si trasferisce appunto da solo a santa monica al piano di sopra dell'appartamento in cui sta gargiulo vive una donna di nome michelle murphy di 27 anni il 28 aprile del 2008 michelle murphy va a dormire verso le 10 e 30 di sera come faceva ogni sera ma dopo qualche ora nel cuore della notte vabbè intorno a luna di notte si sveglia come credo capiti a chiunque michelle si sveglia apre gli occhi e davanti a sé vede un uomo grande e grosso con un cappuccio e un cappellino da baseball che all'improvviso inizia a colpirla con un coltello al petto ma amici nonostante michelle sia una ragazza piuttosto minuta lotta con tutta la sua forza addirittura afferra con la mano il coltello facendosi ovviamente male guarda l'uomo negli occhi e gli chiede perché lo stai facendo quell'uomo come potete immaginare è sempre michael gargiulo subito dopo michelle riesce a piegare le gambe contro il petto così da riuscire a calciarlo via a spingerlo via da lei con tutte le sue forze e tutto questo è incredibile perché michelle non solo è appena sveglia ma è anche ferita è stata colpita dal coltello tante volte è stata colpita in tutto 17 volte amici fortunatamente però nessuna di queste ferite risulta mortale ma comunque nonostante questo trova la forza di reagire in questo modo e appunto lo scaraventa via gargiulo è spiazzato dalla reazione della ragazza così tanto da darsi alla fuga addirittura mentre scappa via uscendo dalla porta si gira la guarda e le chiede scusa le dice i'm sorry e se ne va michelle murphy è quindi la prima donna ad essere sopravvissuta a michael gargiulo e quindi non solo a questo punto abbiamo una testimone ma abbiamo anche dell'altro dna perché nel mentre di tutta questa assurda lotta anche gargiulo si è ferito e ha perso molto sangue e quando testano quel sangue scoprono che combacia ancora una volta col dna trovato sotto le unghie di triscia pacaccio quindi ora non regge più la storia del e vabbè ma triscia e gargiulo erano amici quindi magari il dna l'è finito addosso presbaglio no stavolta abbiamo il dna di un uomo che ha tentato di uccidere una donna con la stessa modalità con cui è stata uccisa triscia che combacia col dna sotto le unghie di triscia lo stesso uomo che guarda caso è sospettato in un altro omicidio quello di ashley ellerin che è stata uccisa sempre con la stessa modalità e come se non bastasse quando vanno a perquisire l'appartamento in cui gargiulo viveva a questo punto trovano un copri scarpe chirurgico vi ricordate lo stesso che avevano trovato sulla scena del crimine di maria bruno e quando provano a testare il dna di questo copri scarpa indovinate mike gargiulo corrispondeva sempre a michael gargiulo e in più ovviamente l'unica testimone michelle che era sopravvissuta al suo attacco quando le mostrano gargiulo sapete quando chiedono di identificare qualcuno quindi fanno entrare tutta una fila di persone e ti dicono di indicare la persona giusta michelle senza esitare neanche mezzo secondo ha indicato michael gargiulo dicendo è lui quindi finalmente il 6 giugno del 2008 gargiulo viene arrestato con l'accusa di omicidio di trisha pacaccio ashley hellerin e maria bruno e per il tentato omicidio di michelle murphy a questo punto e solo a questo punto tra l'altro la famiglia di trisha pacaccio scopre che ben 8 anni prima avevano trovato il dna di gargiulo sotto le unghie della loro figlia cioè ve lo immaginate e nessuno gliel'aveva mai detto per 8 anni avrebbero potuto non lo so perlomeno avere un po di chiarezza comunque ricordate che gargiulo era amico del fratello di trisha quindi era amico di uno dei loro figli lo avevano invitato a casa un'infinità di volte e per 8 anni le autorità sapevano questa cosa del dna e non gliel'hanno mai detto la famiglia era comprensibilmente furiosa e ha dichiarato proprio di essersi si sono sentiti proprio presi in giro dalle autorità comunque il processo a michael gargiulo inizia il 2 maggio del 2019 quindi ben 11 anni dopo il suo arresto anni che comunque lui passa in carcere per carità però sono comunque tantissimi anni per un processo americano perché solitamente negli stati uniti la legge è molto più veloce e infatti c'è un motivo se hanno aspettato così tanto e il motivo è che gargiulo consapevolmente ha preso tempo anzi ha perso tempo gargiulo perdeva tempo licenziando costantemente i suoi legali e quindi ogni volta si doveva aspettare che ne trovasse uno nuovo perché è un suo diritto chiaramente ha bisogno di un avvocato come tutti e quindi niente facendo così sono passati 11 anni gargiulo è sempre stata una persona molto presuntuosa molto manipolatrice e aveva proprio la presunzione di essere al di sopra della legge di saperne più degli altri e di poterla sempre fare franca pensate che dei suoi amici si sono fatti avanti e hanno raccontato che anni prima una volta così all'improvviso gargiulo aveva chiesto voi avete mai ucciso qualcuno io sì ho lasciato la stronza per terra senza vita sui gradini e me ne sono andato i suoi amici hanno pensato che fosse una battuta di cattivo gusto e non hanno mai riportato la cosa alle autorità ma non era la prima volta che gargiulo diceva cose simili un'altra volta per esempio aveva detto che lui ne sapeva tantissimo di criminologia di indagini forensi anche perché guardava un sacco di puntate di csi e che quindi se mai avesse commesso un crimine l'avrebbe sicuramente fatta franca si è visto comunque al processo l'accusa lo accusa appunto di essere un serial killer che uccideva giovani donne per una sua gratificazione sessuale e che probabilmente aveva anche ucciso altre donne molte più donne di quelle che si conoscevano uccideva nello specifico donne che erano molto belle donne con cui lui non avrebbe mai avuto una possibilità questo perché lui si sentiva inadeguato si sentiva inferiore a loro e per riprendersi indietro quel potere che sentiva di non avere le uccideva e poi le umiliava anche mettendole in quelle pose dopo la loro morte la difesa invece sostiene che gargiulo non sia sano di mente chiaramente si giocano la carta dell'infermità mentale e sostengono che gargiulo soffrisse del disturbo dissociativo della personalità quindi che avesse personalità multiple e quindi quando per esempio è entrato nell'appartamento di michelle la ragazza che è sopravvissuta era in uno stato confusionale secondo la difesa non era lui per questo poi quando è scappato via le ha chiesto scusa perché era tornato in sé peccato che questa argomentazione viene smontata alla grande dal momento in cui viene registrata una conversazione tra gargiulo e altri due detenuti in prigione che in realtà questi due detenuti altro non erano che poliziotti sotto copertura che chiaramente chiacchierando con gargiulo lo incitavano a parlare a confessare gargiulo figuratevi presuntuoso com'era non ci mette tanto a cantare inizia a dire che lui si era ispirato a diversi serial killer che leggeva su internet articoli su ted bandi o su edgin e aveva detto che per difendersi da alcune prove che l'accusa aveva contro di lui che avrebbero usato in tribunale nel processo lui aveva intenzione di dire che soffriva di vuoti di memoria cioè al processo avrebbe detto che non si ricordava niente e aveva anche chiesto un consiglio a questi due finti detenuti su come spiegare questa cosa al meglio alla giuria così da farla franca quindi vabbè gargiulo ci hai provato ma mi sa che te ne devi ancora guardare puntate di CSI eh questo caso e questo processo nella specifica ha fatto parlare moltissimo anche perché al processo ha dovuto testimoniare anche Ashton Kutcher in persona che ha dovuto raccontare gli eventi di quella sera quando appunto era andato a prendere Ashley a casa e aveva notato le chiazze di vino rosso che poi in realtà erano sangue pare anche che Ashton fosse un attimo in pensiero perché vi ricordate quella sera lui aveva cercato di entrare in casa quindi le sue impronte erano sulla maniglia della porta della porta d'ingresso quindi si è detto non è che qui pensano che sia stato io ma il suo avvocato è stato sentito dire non preoccuparti non sei un sospettato oltre al fattore Ashton Kutcher ci si mettono anche i media che puntualissimi eh hanno iniziato a dare tutta una serie di soprannomi accattivanti a Gargiulo come The Hollywood Ripper lo squartatore di Hollywood oppure The Boy Next Door Killer ovvero il killer della porta accanto alla fine il 15 agosto del 2019 Gargiulo viene dichiarato colpevole di tutte le accuse e il 18 ottobre la giuria vota per la pena di morte Ma per la sentenza definitiva passano altri anni anche perché nel frattempo c'è stato il famoso covid e tutto quanto quindi infine il 16 luglio del 2021 Gargiulo viene ufficialmente condannato alla pena di morte ma pensate che in questo momento Gargiulo sta ancora aspettando di essere estradato in Illinois che è lo stato in cui ha ucciso Trisha Pacaccio nel 1993 cioè quindi adesso siamo nel 2023 e sta ancora aspettando di essere estradato per il suo omicidio il 1993 perché deve essere condannato anche in quello stato perché come sapete negli Stati Uniti ogni stato è un po' a sé quindi i genitori di Trisha stanno ancora aspettando giustizia dopo 30 anni e per carità Gargiulo è accusato della morte di Trisha e non uscirà mai più di prigione anzi tecnicamente è condannato a morte ma in California è stato accusato dei delitti commessi in California e in Illinois deve essere condannato per quelli commessi in Illinois quindi comunque è una cosa in sospeso per questa famiglia che soffre da 30 anni onestamente non so neanche quanti anni abbiano ad oggi non so se ci siano ancora ad oggi perché le ultime notizie che ho trovato su di loro risalgono al 2021 ma comunque è tutto molto triste Gargiulo e la sua presunzione comunque non mancano mai di sorprenderci infatti dopo il processo ha rilasciato una dichiarazione a dir poco imbarazzante era arrabbiatissimo perché non gli avevano permesso di testimoniare al suo processo cosa che probabilmente la difesa ha fatto cioè gli ha impedito per avere qualche possibilità remota di vincere la causa quindi probabilmente è stato fatto anche nei suoi interessi ma comunque niente lui ci è rimasto male e ha dichiarato le seguenti parole il mio amore voglio testificare e avere quella ultima e fondamentale decisione e essere denienti perché mi sono prevenito da il mio amore che mi ha detto che non mi va aiutare perché non vuole niente con il mio testificato e che hai permesso di farlo di farlo di farlo tutto amici senza mostrare un briciolo di emozione o di rimorso per tutto il processo non ha mostrato un briciolo di emozione quindi ci credo che non lo hanno lasciato testimoniare ah e in tutto ciò forse mi sono scordata di dire che ovviamente lui nega di aver fatto qualsiasi cosa cioè lui dichiara di essere innocente e di non aver mai fatto nulla è probabile comunque che rimanga nel braccio della morte per sempre in quanto in california non è stato giustiziato nessuno dal 2006 quindi dubito che ricominceranno adesso quindi ad oggi michael gargiulo si trova ancora lì purtroppo amici queste sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi fatemi sapere se lo conoscevate se ne avevate mai sentito parlare o se come me non l'avevate mai sentito fatemi sapere che cosa ne pensate ma soprattutto voglio farvi questa domanda se voi doveste uscire con una persona e questa persona non rispondesse alla porta e dalle dalle finestre vedeste tutte le luci accese e delle macchie rosse presumibilmente di vino rosso a terra cosa fareste andreste avanti con la vostra serata tranquilli oppure avete guardato abbastanza video miei da sapere che dovete chiamare immediatamente la polizia almeno per fare un controllo perché non si sa mai no perché ashton kutcher sei tanto carino mi piaci tanto non ce l'ho con te però no cioè io paranoica come sono avrei subito chiamato non lo so i pompieri avrei fatto tirar giù la porta però io sono anche un po esagerata quindi fatemi sapere che cosa avreste fatto voi oltretutto manco a farlo apposta proprio in questo periodo ashton kutcher è al centro di un'accesa polemica negli stati uniti non so se avete sentito qualcosa praticamente l'attore danny masterson che ha recitato anche lui con ashton kutcher nel famosissimo telefilm death 70 show è appena stato condannato a 30 anni di galera per aver stupito due ragazze e a quanto pare ashton kutcher e sua moglie l'attrice mila kunis che tra l'altro anche lei recitava nel telefilm death 70 show hanno scritto una lettera di supporto all'attore durante il suo processo una sorta di lettera di raccomandazione del tipo vostro onore danny masterson è un bravo ragazzo non ha fatto niente però alla fine così tanto bravo non era perché è stato condannato quindi chiaramente ashton kutcher e mila kunis sono stati molto criticati per aver difeso uno suonatore ma vabbè questo è tutto un altro discorso amici per oggi invece è tutto io come sempre vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao